A voi avvertite questo problema dell'acqua? Ecco, ogni giorno si rollevano, siamo a dire che erano i sette prima di fare la barba perché non gestiva l'acqua. Ma a che ora la toltono? Alla sera, verso le otto e mezza, alle nove la toltono. Mi rendo conto che non è facile andare avanti, soprattutto in questi periodi estivi in cui il caldo aumenta, in cui la necessità di acqua aumenta e poi alla fine la risposta è al contrario in diminuzione. San Tommaso, nemmeno per la posta abito a sesto piano, sono abituato pure ad alzarmi presto. Devo aspettare che arriva l'acqua e farmi la barba, insomma tutti i miei bisogni. La gente si lamenta, ma purtroppo che dobbiamo fare? Reclamare la toltono. Immaginiamo per gli anziani, i bambini. Gli anziani, i bambini, a volte non si possono nemmeno lavare perché c'è gente che deve uscire presto la mattina e noi ci fai il rifornimento, anche un danno, che la gente che fa il rifornimento non riesce a consumare, poi si trova con i recipienti pieni, insomma, che ti devo dire, è una cosa allucinante, è una cosa che si sta verificando di continua. Non si capisce niente, più arriviamo a casa e stiamo senza acqua, è un pasticcio. Ma a che ora più o meno si trova? Verso le 9. Verso le 9? Sì, verso le 9 la sera non troviamo acqua. Arriviamo a casa e non troviamo l'acqua. Quali sono i problemi più gravi? Non possiamo fare la lavatrice, non ci possiamo fare la doccia, ci dobbiamo... Sono problemi seri, arrivo a casa dopo una giornata di lavoro e non trovo l'acqua, è questo. E già non si capisce niente, con tanta sporchizia e topa che abbiamo. E poi ci mettiamo proprio questa, che manca l'acqua, la situazione è grave, non si scherza, l'acqua è la cosa più importante. Non è che ci hanno avvisato che toglievano l'acqua per qualche motivo, non so se ci sia qualche guasto, spero che non sia pure sempre, pure stasera, non lo so, vediamo.